amici di unibet eccoci qua finalmente l'ufficializzazione di stefano pioli allenatore dell'inter è un allenatore che conosce il campionato italiano quindi tifosi interisti credo che in questo momento siano anche contenti perché ci affidiamo così a un allenatore che conosce bene il campionato di serie a è chiaro che gli aspetta un grande lavoro perché in questo momento l'inter secondo me ha bisogno di autostima di far capire ai giocatori cosa vuol dire indossare la maglia nello azzurra e soprattutto cercare di recuperare giocatori molto importanti a livello tattico con la lazio ha sempre attuato un 4 3 3 cambiando anche un po il modulo a seconda dei giocatori che aveva a disposizione perché ha fatto anche un 4 2 3 1 e avendo un po la rosa vedendo un po la rosa interista credo che lui saprà trovare la soluzione migliore in questo momento c'è da far ritrovare anche molto entusiasmo la voglia di correre mi aspetto che lui dia un'impronta precisa alla squadra una squadra corta aggressiva e soprattutto a livello psicologico ci sono giocatori che vanno vanno recuperati assolutamente quindi ben arrivato buon lavoro stefano pioli sono sempre aver visto scusate se insisto